E bentrovati a Il Mondo Intorno, oggi 31 maggio è la giornata mondiale senza tabacco. Noi vogliamo parlare dell'importanza di smettere di fumare grazie alla presenza qui in studio del dottor Paolo Cascavilla, medico di medicina generale. Buongiorno dottor Cascavilla e benvenuto. Buongiorno, grazie. Allora, domanda secca, perché smettere di fumare? Smettere di fumare perché il tabagismo è una tossicodipendenza. Una tossicodipendenza dalla quale noi riceviamo un'esposizione ai tossici che rischia di diventare molto duratura nel tempo. Addirittura rischia di coprire l'intero arco dell'assistenza quanto più precocemente si inizia a fumare. E questo grazie alla dipendenza che è una vera e propria camicia di forza che ha maglie strette, che una volta indossata riesce poi difficile da sfilarsela. E smettere di fumare perché questa esposizione cronica ai tossici mette a serio rischio i nostri organi. Il tabagismo è una patologia multidisciplinare che cioè riguarda tante discipline mediche, la pneumologia, la cardiologia, l'oncologia e così via. Smettere di fumare per difendere il nostro corpo da questi attacchi di tossici persistenti. Dottor Cascavilla, qual è il ruolo del medico di medicina generale nell'aiutare il proprio assistito in questo arduo compito, cioè smettere di fumare? Sì, il ruolo del medico di medicina generale è un ruolo privilegiato proprio perché ha contatto quotidiano con i fumatori che affollano il nostro studio. E noi possiamo aiutarli con uno strumento molto semplice, il colloquio motivazionale breve che è un colloquio aperto, un colloquio empatico e non giudicante attraverso il quale noi cerchiamo di aiutare il fumatore a trovare in sé la propria forza, a trovare in sé le motivazioni che possono aiutarlo ad abbandonare questa pratica molto dannosa per la sua salute. Possiamo dire, dottor Cascavilla, che lei da sempre lotta in prima linea contro il fumo e ha coinvolto anche alcuni giovani medici del nostro territorio. Avete realizzato un video di cui stiamo vedendo alcune immagini proprio per sensibilizzare ulteriormente anche i più giovani nel smettere di fumare. Com'è stato il coinvolgimento con i giovani medici? È stata un'esperienza straordinaria. Sono stati tutti bravissimi, hanno accettato e io sono contento perché possono realmente contribuire al benessere della società. Ecco, questo è importante. Infatti appunto stiamo vedendo anche il coinvolgimento degli infermieri del nostro territorio. Attraverso questo video sono stati non solo affrontati alcuni argomenti, alcuni aspetti dell'importanza dello smettere di fumare, ma appunto sono stati lanciati anche messaggi forti, tra cui, dottor Cascavilla, il tema scelto quest'anno dall'Organizzazione Mondiale della Salute. Smettere di fumare non solo per se stessi ma anche per l'ambiente. Sì, certamente. Per l'ambiente che soffre ogni sigaretta fumata è uno spreco di risorse da cui dipende la nostra esistenza. E' uno spreco di risorse perché teniamo presente che una sigaretta fa male da prima che viene accesa e anche dopo. I campi di tabacco sono dei territori che devastano il nostro ambiente. L'abbattimento di foreste crea degrado del suolo. E poi c'è in più lo sfruttamento minorile di bambini che, siccome questi campi vengono sottoposti a un incondizionato sfruttamento anche anticrittogamico, si ammalano e non hanno futuro. E poi c'è tutto i miliardi di tonnellate di cicche abbandonate nelle strade, nelle piazze, sulle spiagge, che veleni, anche microplastiche, veleni tossici, che vengono assorbiti dal terreno e poi passano nelle falde acquifere. Ecco, noi prima ci facevamo due conti, dottor Cascavilla. Per un fumatore rinunciare a sette pacchetti di sigarette al mese equivale a poter sostenere a distanza un bambino. E' così, vero? Certo, è un modo straordinario anche se vogliamo. Di solito non se ne parla, ma anche l'etica, cioè dare valore etico ai soldi. Invece di aspirare nicotina e veleni, rinunciando a sette, otto pacchetti al mese, gli altri il fumatore li può utilizzare come vuole, per se stesso. Ma questi sette, otto pacchetti di sigarette, quantizzabili con 35 euro, si potrebbe sostenere un bambino a distanza. Quindi fare del bene a se stessi e anche agli altri. Ecco, in conclusione, mentre continuiamo a vedere le immagini appunto dei giovani medici del territorio che l'hanno aiutata a realizzare questo video di sensibilizzazione, concludiamo con un messaggio ai giovani. Sì, innanzitutto volevo dire che addestrare i giovani medici e operatori sanitari equivale a salvare vite umane e mi pare molto importante questo. Per quanto riguarda i giovani nelle scuole, noi facciamo passare il messaggio che è più facile non iniziare che smettere di fumare, anche perché i produttori di tabacco tentano di trasformare i giovanissimi infumatori a vita per ovvi motivi. E allora i giovani vanno incoraggiati ad amare la vita, ad amare il proprio corpo, ad amare i loro sogni, i loro sogni e le loro promesse di vita, perché per riprendersi la propria età, per rimanere nella propria età, nella propria età, ricca di promesse di vita e di grande apertura sul loro futuro. Certo. In conclusione, lei è molto attivo anche nelle scuole con incontri, appunto per spiegare ai giovani che fumare fa male. C'è stato un recente incontro nelle scuole in cui un bambino le ha detto una cosa veramente particolare. Sì, era un ragazzetto di scuole media, Manfredonia, una scuola di Manfredonia, il quale dopo il nostro incontro, noi diamo voce ai ragazzi, ha preso il microfono e ha detto io voglio fare una testimonianza, voglio dare. Io mi trovavo con mio nonno a passeggiare sulla spiaggia del mare a piedi nudi. Quindi, inavvertitamente, ho messo il piede su una cicca ancora accesa e mi sono ustionato. E quindi vorrei dire a fumatori che smettere non fa bene solo a se stessi, a loro, ma anche agli altri. Mi pare significativo. Molto significativo anche per concludere il messaggio che abbiamo voluto lanciare oggi, 31 maggio, giornata mondiale senza tabacco. Grazie di cuore al dottor Paolo Cascavilla, l'abbiamo sottratta ai suoi assistiti, però è importante anche quest'opera di sensibilizzazione. Grazie ancora per essere stato con noi. Il Mondo Intorno termina qui, linea alla regia, per proseguire con la programmazione di Padre Pio TV.